Tornata internazionale in sostegno del popolo indiano contro il regime fascista e genocida di Modi contro la repressione, stop praat, stop praat, basta repressione al popolo indiano, stop praat, tornata internazionale di solidarietà, tornata internazionale di solidarietà con il popolo indiano contro il fascista, regime di Modi. 24 novembre, viva l'internazionalismo proletario, giornata internazionale, stop praat, basta con il regime genocida di Modi fascista e induista. Praat 3, stop praat 3, solidarietà al popolo indiano, giornata internazionale 24 novembre, giornata internazionale in tutti i paesi, solidarietà al popolo indiano, stop praat, basta repressione, stop praat 3, basta repressione. Pressione, giornata internazionale 24 novembre in tutti i paesi, stop praat, basta repressione al popolo indiano, stop praat, giornata internazionale di solidarietà, giornata internazionale di solidarietà con il popolo indiano contro il fascista, regime di Modi. 24 novembre, viva l'internazionalismo proletario, giornata internazionale, stop praat 3, basta con il regime genocida di Modi fascista e induista. Praat 3, stop praat 3, solidarietà al popolo indiano, giornata internazionale 24 novembre, giornata internazionale in tutti i paesi, solidarietà al popolo indiano, stop praat, basta repressione. Stop praat 3, basta repressione, giornata internazionale 24 novembre in tutti i paesi, stop praat 3, basta con il governo genocida di Modi, amiche degli imperialisti come quell'italiano, che sono stati fu a forza. Stop praat 3, basta repressione, basta repressione al popolo indiano, stop praat 3, solidarietà con il popolo indiano, basta con le politiche fasciste. Praat 3, solidarietà. Dominare Wolfgang, domani, Consiglio, Sengiber, problemà media, giornata internazionale di sostegno del popolo indiano contro il regime fascista e induista, rigida di Modi contro la repressione, stop praat, stop praat, basta repressione al popolo indiano, Giorno, sopra la giornata internazionale di solidarietà, giornata internazionale di solidarietà, con il fuoco indiano, colto e fascista, regime, timodi, 24 novembre, viva l'internazionalismo proletario, giornata internazionale, stop pra a 3, basta con il regime genocida, timodi, fascista e linguista, pra a 3, stop pra a 3, solidarietà al popolo indiano, giornata internazionale, 24 novembre, giornata internazionale di tutti i paesi, solidarietà, solidarietà al popolo indiano, stop pra a, basta repressione, stop pra a 3, basta repressione, giornata internazionale, 24 novembre, tutti i paesi, stop pra a 3, basta con il governo, gelocidi dagli mori, amici degli imperialisti come quelli italiani, che sono stati qua apposta, stop pra a 3, basta repressione, basta repressione al popolo indiano, stop pra a 3, solidarietà, con il popolo indiano, basta con le politiche fasciste, stop pra a, basta repressione al popolo indiano, stop pra a, giornata internazionale di solidarietà, grazie grazie